Sarà un fine settimana ricco di eventi dal 4 al 6 ottobre, è la manifestazione che apre nel territorio la stagione del tartufo e l'evento clou è quello della domenica pomeriggio, il 6 ottobre, con l'ospite che quest'anno sono i Mattia Bazar che verranno incoronati a Regina, Re del Tartufo e gli appuntamenti sono tantissimi, sia di intrattenimento musicale, di intrattenimento per i bambini ma anche eventi più legati alla cultura e da cornice ai tre giorni della festa le osterie con i loro prodotti tipici che sono il tartufo, la birra e tutti gli altri prodotti gastronomici del territorio. È la prima edizione che si colora di arancione perché a febbraio 2024 ci è stata assegnata dal Touring Club italiano la bandiera arancione, quindi la 42esima edizione della festa che negli anni ovviamente ha subito delle modifiche è stata anticipata ad ottobre, si è dato sempre più risalto alla birra, la novità di quest'anno è appunto la tonalità arancione con questa importante assegnazione nel settore del turismo.